Salve a tutti e benvenuti in questo viaggio nell'affascinante mondo degli Shinigami, le misteriose divinità della morte della mitologia giapponese. Uno Shinigami, letteralmente divinità della morte, è una personificazione della morte nella mitologia giapponese, un equivalente del tristo mietitore occidentale. Quella occidentale, inoltre, è una figura singola, mentre gli Shinigami sono appunto degli dèi e pertanto molteplici. Lo Shinigami vive in ambienti legati alla morte o alla sventura e, a differenza di altri yokai, non ha bisogno di nutrirsi in alcun modo, poiché esistono solo per perpetuare la morte. Piuttosto che essere direttamente responsabili quando qualcuno muore, quasi invitano e introducono le persone alla propria morte. Il termine Shinigami non è uno che appare troppo nella letteratura giapponese e non si applica a uno specifico dio o spirito, ma piuttosto a una varietà di entità che, se ritiene, portino la morte. Descrivere il loro aspetto può essere piuttosto difficile, in quanto possono assumere una serie di forme diverse, apparendo come un dio, uno spirito o una figura demoniaca. Nella prima letteratura giapponese, gli Shinigami non descriveranno mai veramente queste entità fisiche. Nella letteratura classica del XVIII e XIX secolo, le raffigurazioni degli Shinigami iniziarono a cambiare. Se diamo un'occhiata al Leon Yaku Monogatari, spesso indicato come il libro illustrato di cento storie, copre una serie di diverse entità soprannaturali ai yokai. C'è una storia intitolata Shinigami, e in questa storia il nostro dio della morte è descritto come lo spirito di qualcuno che è passato, ma nutre ancora delle cattive intenzioni. Molto simile a come descriveremo un fantasma o un huntergeist. Lo spirito avrebbe condotto i vivi lungo un sentiero oscuro, portandoli nei luoghi dove erano avvenuti avvenimenti importanti per loro. Erano conosciuti per condurre coloro che stavano contemplando il suicidio nei posti in cui altri precedentemente si erano tolti la vita, nella macabra speranza che la storia si ripetesse. Si credeva che questa forma di Shinigami fosse in grado di possedere le persone e che lentamente rompesse la loro volontà, causando in loro la voglia di morire. Negli anni successivi si riteneva che molte cose sarebbero potute accadere a qualcuno che era stato posseduto da questo particolare tipo di spirito. Infatti costoro avrebbero trovato estremamente difficile dire la verità quando ricevevano delle domande o avrebbero trovato quasi impossibile parlare. Possiamo quasi supporre che queste fossero tecniche usate dagli Shinigami per allontanare i loro ospiti da amici e familiari, rendendo molto più difficile per loro cercare aiuto. Si crede che potessero invadere i pensieri di una persona, costringendola a rivivere ogni cosa orribile che avesse fatto, fino al punto di tormentarla così tanto che la morte sarebbe apparsa come l'unica liberazione. Gli izanagi e gli izanami sono ciò che molti considerano essere esempi del primo Shinigami. Erano le otto coppie divine di fratelli e sorelle che apparvero quando la terra fu creata e furono spesso associate sia alla creazione che alla morte. Gli Shinigami sono abbastanza simili ad altri kami della religione shintoista, ma la loro storia non si estende così indietro perché, dopo tutto, sono un'invenzione relativamente recente. L'idea dello Shinigami non cominciò davvero a crescere e a svilupparsi fino a quando il Giappone entrò in contatto con l'Occidente e le loro idee di divinità particolari associate con la morte si unirono. C'è una storia interessante su un uomo che è stufo della sua vita e quindi contempla il suicidio, ma prima che sia in grado di farlo viene visitato da uno Shinigami che gli dice che il suo tempo non è ancora arrivato. Lo spirito spiegò all'uomo che la vita di ogni persona è misurata su una candela e una volta che la fiamma si spegne quella persona muore. Queste raffigurazioni differiscono drasticamente e contraddicono le prime raffigurazioni degli Shinigami che apparivano più come spiriti vendicativi. È chiaro che in questa storia non hanno alcun controllo su chi vive e chi muore. In sostanza viene detto quando il tempo di una persona è giunto al termine o forse sono anche in grado di percepire quando il tempo di una persona è vicino, quando la loro candela figurativa sta per sciogliersi. Per fermare l'uomo che vuole finire la sua vita, lo Shinigami gli dice che potrebbe diventare molto ricco. L'uomo sarebbe diventato un medico che sarebbe stato in grado di poter curare qualsiasi malattia. Gli fu data una frase magica che avrebbe mandato qualsiasi Shinigami negli inferi e di conseguenza avrebbe allungato la vita di qualcuno. La frase avrebbe funzionato solo se lo Shinigami si fosse seduto ai piedi del letto di qualcuno. Se fosse stata a capo del letto, la frase magica avrebbe causato solo la morte di un malato. Con la sua sanità ritrovata, l'uomo infatti molto ricco e un giorno, visitando un paziente, vide lo Shinigami alla testa del letto. I familiari del malato supplicarono l'uomo di aiutarlo, ma dopo aver declinato diverse offerte, la famiglia offrì una quantità di denaro così grande che l'uomo fu consumato dall'avidità. Quando lo Shinigami si addormentò, l'uomo scambiò le estremità del letto e le parole magiche rimandarono lo spirito negli inferi. Quando l'uomo arrivò a casa, lo stesso Shinigami lo stava aspettando, infuriato per quello che aveva appena fatto. Lo Shinigami disse all'uomo che tutto sarebbe stato dimenticato se fossero andati a bere qualcosa per celebrare la fortuna appena guadagnata dall'uomo. L'uomo, naturalmente, era d'accordo, non sapendo che era appena caduto in un trucco. Fu portato in un edificio pieno di candele e gli fu mostrata la sua candela, che era quasi bruciata a causa delle sue azioni. Disse all'uomo che avrebbe potuto estendere la sua vita trasferendo lo stoppino e la cera della sua candela ad un altro. Ma naturalmente questo era un altro trucco. Il fallimento era inevitabile. Infatti l'uomo fece cadere la candela e così morì. Questa è una storia che mi piace molto, perché non solo ci mostra che gli Shinigami sono imprevedibili, ma sembrano avere le loro personalità distinte. Il primo Shinigami apparve piuttosto amichevole, spiegando all'uomo come funzionavano la morte e persino aiutandolo a migliorare la sua vita. I seguenti spiriti che l'uomo incontrò, invece, non sembravano essere troppo preoccupati del fatto che egli li stesse mandando negli inferi. Ora, so che voi fan dell'anime e del manga di Death Note state aspettando questo video da un po', e un video che parla degli Shinigami non sarebbe esattamente completo senza dare un'occhiata alle loro recenti rappresentazioni e trasformazioni. In Death Note, gli Shinigami appaiono come dei demoniaci, che scrivono i nomi dei mortali nei quaderni conosciuti come Death Note, facendoli morire e quindi prolungando la propria vita. Gli Shinigami non sono responsabili di ogni morte che si verifica, ma a volte possono terminare una vita prima del previsto. Il personaggio conosciuto come Ryuk è uno Shinigami piuttosto curioso, che, per noia, lascia cadere uno di questi quaderni della morte nel mondo umano, con le istruzioni su come può essere utilizzato. Coloro che trovano il quaderno entrano essenzialmente in un affare con Ryuk, poiché accettano di uccidere chiunque il cui nome è scritto nel quaderno nel modo desiderato. Ryuk sembra provare apatia per coloro che trovano il quaderno, poiché sono essenzialmente solo il mezzo per lui per prolungare la propria vita, ma menziona diverse volte che trova gli esseri umani e il loro comportamento estremamente interessante. Agli individui che stipulano un accordo con Ryuk viene detto che se non desiderano più essere i custodi del quaderno, allora possono passarlo a qualcun altro, o possono separarsi dal quaderno per sette giorni. Una volta trascorsi i sette giorni, Ryuk avrebbe trovato la nuova persona per assumere il ruolo di custode del quaderno. Gli Shinigami in questo anime variano per l'aspetto. Se prendiamo Ryuk come esempio, ha arti lunghi e sottili e un aspetto macabro. La sua testa e il collo sembrano essere cuciti al suo corpo. Ci sono diversi Shinigami che appaiono nella serie e l'unica somiglianza in apparenza che tutti sembrano condividere è che tutti assomigliano a cadaveri. Se queste raffigurazioni dello Shinigami sono qualcosa che ti interessa, allora ti suggerisco di controllare l'anime o il manga, o forse anche il film di Netflix. Le divinità che circondano la morte in altre culture sono spesso mostrate come individui altruisti che svolgono un compito in grado. Il ruolo degli Shinigami cambiò drasticamente nel corso degli anni in Giappone. All'inizio della cultura giapponese erano usati per spiegare la morte di qualcuno, in particolare l'atto del suicidio, ma presto iniziarono a manifestarsi come spiriti vendicativi che erano in grado di possedere le persone e di farle impazzire, e la cui unica liberazione era appunto la morte. Nelle più recenti raffigurazioni appaiono come dei demoniaci, che uccidono i mortali come mezzo per estendere la propria vita. Gli Shinigami sono sicuramente un miscuglio. Ci sono coloro che cercano vendetta e godono nel causare la morte, e ci sono quelli che usano la vita dei mortali come strumenti di contrattazione, o come mezzo per estendere la propria esistenza. Che tu veda gli Shinigami come spiriti, demoni o dei, sono figure estremamente intriganti, che ci danno una visione diversa delle divinità che circondano la morte. E con questo concludiamo il nostro viaggio nel mondo degli Shinigami. Grazie mille per avermi accompagnato in questa esplorazione delle divinità della morte nella mitologia giapponese. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e di condividere i tuoi pensieri nei commenti qui sotto. Se vuoi continuare a scoprire nuovi argomenti affascinanti, assicurati di iscriverti al canale e attivare le notifiche. Grazie ancora e ci vediamo presto!